Cosa, secondo me... Ciao! Ciao, dove siamo? Siamo in Maratea Centro. Maratea Centro. E Barbara dov'è? E Barbara è voluta andare con Fabrizio. Ah, se n'è andata. Se n'è andata, c'è un'altra. Questo è il centro. Molto carino. Cioè, rinnegati. Vabbè, ha pure cinque anni. Sì, la ria ride. È grande. Quasi sera. Sì, qua ha comprato il Wix. Uno del Wix. E qua poi ci sono tutti i ristorantini, pub, bar e negozi di scarpe. Vabbè. Salute, ci sentiamo dopo. Ciao, a dopo. A più tardi. Allora. Bens useful. Allora. 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 E qua. Allora. Maratea di sera